La ciclovia adriatica che metterà in collegamento Fano, Marotta e Senigallia incomincia ad essere una realtà. Partiti nei giorni scorsi con le macchine all'opera nei cantieri, i lavori in due delle tre città, Senigallia e Marotta. Unica ferma ancora al palo la città di Fano dove siamo fermi all'apertura delle buste avvenuta nella giornata di oggi inviata dalle diverse centinaia di aziende che hanno risposto al bando per l'assegnazione dei lavori che ovviamente slitteranno rispetto alle due consorelle. A Senigallia partiti i lavori per 600 mila euro finanziati dalla regione Marche con l'aggiunta di 280 mila euro di contributo comunale con l'estensione a sud fino alla frazione di Marzocca della ciclabile esistente da lungomare Alighieri a lungomare Da Vinci. A Marotta invece opere per un totale di 430 mila euro di cui 130 mila di contributo comunale per oltre un chilometro di pista ciclabile che termina proprio al confine con Ponte Sasso dove dovrebbe arrivare quella fanese. Sì, un'importante riqualificazione sul lungomare di Marotta Nord, quindi una pista ciclabile di 1,4 chilometri che va da piazza di unificazione fino al confine con Ponte Sasso. Un intervento importante che migliora l'immagine turistica, l'immagine della nostra città, la rende ancora più accogliente per cittadini e turisti ma è anche un intervento che va verso la direzione della mobilità sostenibile. Come Comune di Mondolfo abbiamo fatto tanti interventi, tutti collegati fra loro per migliorare la rete dei percorsi ciclopedonali su tutto il territorio. La pista ciclabile sarà una pista ciclabile rialzata a livello del marciapiede con pavimentazione colorata. Sulla maggior parte del percorso la larghezza è di 2,5 metri, ci sono alcuni punti in cui la pista ciclabile è anche più larga, ci saranno nuove alberature vicine ai muretti e rifacimento anche dei marciapiedi in alcuni punti in cui necessitava di intervento. Ma ci sono altri importanti progetti. Nelle prossime settimane presenteremo assieme alla Regione Marche e al Comune di Senigallia il progetto del ponte ciclopedonale sul Cesano, quindi questo attraversamento che permetterà a pedoni e ciclisti in sicurezza di raggiungere il Comune di Mondolfo e il Comune di Senigallia. C'è anche altro perché inizieremo i lavori nel quartiere di Piano Marina per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà proprio il quartiere di Piano Marina con Marotta Centro, che realizziamo in collaborazione con una dita che si è insediata da poco nel nostro territorio, che è il Gruppo Sodico.